Abbiamo sbagliato perché comunque abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, quindi abbiamo letteralmente fallito come squadra e mi dispiace solo per questo perché sono molto demoralizzato. È stata un'annata particolare con mille problemi, quindi secondo me abbiamo perso tanti punti in tutta l'annata, non è l'ultimo periodo, l'ultimo periodo alla fine abbiamo fatto degli ottimi risultati, è proprio nell'annata intera che abbiamo perso punti importanti e questa è la colpa di tutti. Io per primo imprendo le mie responsabilità perché comunque ho sbagliato, ho sbagliato tanto, quindi la colpa va riparata per tutti perché comunque abbiamo fallito un traguardo importante. Voglio ringraziare tutti i tifosi perché oggi sono stati eccezionali, poi penso che in questo momento qua non vogliono neanche sentire le nostre parole perché giustamente saranno affranti come il più di noi, quindi sono molto dispiaciuto soprattutto per loro perché meritano ben altre soddisfazioni e ben altre categorie, ma io non ho bisogno di niente, penso che il Presidente debba fare le proprie valutazioni e poi ne parleremo però adesso veramente mi sembra talmente riduttivo parlare del mio futuro che ci sono tanti altri problemi e quindi non mi sembra neanche giusto nei confronti della gente. a questo momento. bianchi a limite dell'area di rigore, prova bianchi e segna rolando bianchi parte bianchi il destro, roto, roto in vantaggio, rolando bianchi interessando, lo apre in mezzo bianchi, è la pelle in rete, il gol di bianchi di tacco che spazio per Antenucci, Antenucci, bianchi, bianchi, con il destro bianchi, 2-1 Torino, rolando bianchi bianchi, 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 sempre lui, segna sempre lui c'è di Gasparone, cercare bianchi, la deviazione, con il vantaggio, con il 23esimo gol stagionale di bianchi, vado in mezzo, attenzione, bianchi, il destro, il gol di bianchi, allo scadere la punta in mezzo Zavagno, bianchi di testa a rete, doppietta di bianchi, bianchi ancora, ultimo la distanza, un grandissimo gol di bianchi cercarebbe il licorio, poi bianchi in aria, bianchi, torino che si porta in vantaggio con Rolando bianchi, in pieno recupero lancio in aria, bianchi di testa a rete, bianchi porta in vantaggio il torino di servire dentro bianchi, posizione regolare, bianchi, bianchi, con la riscosse del toro con Rolando bianchi, la sedicesima volta di bianchi in campionato bianchi, il gol a fare, super gol di bianchi il gol a fare, super gol di bianchi, si tendo sanzione, bianchi, sorridi le Grazie a tutti. Grazie a tutti.